ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video come promesso ecco il video post real celsi semifinale d'andata di champions league e dunque è finita 1 a 1 ho visto una bella partita nel primo tempo nel secondo tempo una bella partita tattica mettiamola così primo tempo che secondo me ha preso la piega giusta per il celsi in quanto se me si dà ha compiuto un errore ma non tanto per colpa sua quello di aspettare molto alto il celsi ma lì non è tanto colpa di c'è si dà nella colpa che ha di aver comunque tenuto questa tattica nonostante gli mancassero sono i due pilastri fondamentale per farlo che uno era sergio ramos e soprattutto anche mendy perché marsello francamente oggi male male onestamente ho visto ho visto un marsello francamente pessimo è piede eccezionale ma veramente un giocatore molto bloccato molto molto bloccato e e grazie a questo schema il celsi è passato in vantaggio con pulisic ma non è stato un vantaggio casuale il celsi aveva già creato diverse occasioni e su c'era era dava sempre la sensazione di poter mettere in difficoltà real madrid e real madrid che era veramente in difficoltà a un certo punto ho trovato prima la conclusione benzemà che ha preso il palo da solo c'è una cosa incredibile perché lì si è liberato da sole ha calciato con una perfezione quasi perfetto il tiro e poi sempre benzemà è riuscito a trovare il gol dell'uno a uno con su un cross di marsello sponda di militao credo benzemà stop e tira un gol fantastico e qua mi tocca tornare un po sulla juve diciamo che questi sono quelle giocate quando hai l'attaccante che te la butta dentro sempre cioè ragazzi real non stava non era in partita stava giocando male non era assolutamente in in condizione però ha portato a casa portato a casa il gol e ha cambiato la partita perché poi è stata una partita molto bella secondo me a livello tattico nel secondo tempo e il risultato credo che sia stra giusto perché nel primo tempo ripeto ha iniziato benissimo il cessi poi pian piano è cresciuto in convinzione real madrid ma come ho detto mancavano ramos mancava mindy io sono dell'idea che real resti la principale favorita anche dopo il ritorno perché come ho detto prima i due i due giocatori che mancavano sono due giocatoroni e soprattutto ramos ti tiene la difesa veramente alta te la tiene da solo ma non solo alta ti tiene anche la difesa bene e si fa sentire in avanti sui cross sui calci piazzati quindi io sinceramente vedo veramente il real favorito adesso lo vedevo favorito anche in eventuale vittoria per 2 a 1 del celsi proprio perché credo che real nel ritorno la possa ribaltare real a volte sbaglia delle partite ma poi quelle che non deve sbagliare non le sbaglia e oggi ha sbagliato l'approccio però la ripresa la ripresa c'è poco da fare e sono curioso del ritorno non vedo l'ora perché penso che verrà fuori una partita un po diversa e comunque ancora più scoppiettante secondo me e quindi niente poi stefan for bridge vuoto sai sapete ormai il discorso del fattore campo viene un po meno il real madrid non sta giocando a bernabeu pieno che è un fattore enorme un fattore campo il celsi non giocherà stefan for bridge pieno è anche quello un enorme fattore campo tra l'altro real gioca a valde bebas allo stadio di stefano che per carità è un bellissimo impianto per la 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 seconda squadra per la squadra b la seconda divisione per carità va benissimo però sono la semifinal di champions league l'atmosfera non è proprio la semifinal di champions league però sappiamo benissimo che il motivo è uno so uno e uno solo cioè mettere a posto il santiago bernabeu rimodernare santiago bernabeu e quindi insomma si può anche immaginare questa cosa insomma ragazzi c'è veramente stata una bella partita una bella partita e a differenza di psg bayern monaco questa è stata anche bella a livello tattico con tuchel che è riuscito a valorizzare gli errori anche di zidane e della formazione di zidane non errori tanto di zidane ma i punti deboli ecco del real di zidane che senza ramosce mendi soffrive la profondità ma zidane che in corso dopo era corretto ed è riuscito a limitare il celsi è stata un'ottima partita di due allenatori tatticamente preparati come zidane e tuchel è migliore in campo benzema secondo me perché mentre il celsi ha giocato bene di squadra il real è andato a sprazzi e quello che è venuto fuori più di tutti è stato proprio karim benzema giocatore veramente strepitoso e clamoroso e quindi adesso vedremo al ritorno ripeto sono curioso e volenteroso di vedere questa partita perché credo che sarà una bello un bello spettacolo domani c'è psg manchester city non vi garantisco niente perché non è una partita che mi attira mi attirava più quella di questa sera anche perché avevo lo stimolo per chi non lo sapesse sono comunque simpatizzante del real da sempre nel senso che io tifo juve ma non mi fa piacere se vince il real se non vince la juve chiaramente cioè la juve viene prima di qualsiasi altra squadra però tolta la juve se in champions rimane il real madrid ho sempre un occhio di riguardo ma da quando quando sono bambino ma sempre affascinato comunque real madrid e quindi niente quindi niente domani vediamo domani vediamo se vedrò la partita penso di sì se la vedrò sicuramente il video lo faccio se non la vedo chiaramente inutile fare video post partita se poi la partita non la vedo e niente ragazzi dunque real madrid celsi 1 a 1 ripeto ancora va de bevas allo stato di stefano è stata una partita molto bella adesso c'è un ritorno tutto da godersi a stanford bridge dove io vedo ancora il real favorito ma attenzione non è così così deciso tutto e devo dire la verità vedo il celsi più squadra il real però più forte nei singoli e spesso fa la differenza a quello e tra l'altro real che dovrebbe recuperare ramos e mendi se li recupera io sinceramente vedo veramente il real favorito staremo a vedere staremo a vedere ragazzi dunque ragazzi io vi do appuntamento come sempre ai prossimi video del canale domani sul canale dj radio zone il secondo appuntamento con j family appuntamento con tutto l'universo bianconero dedicato a tutte le tutte le formazioni della juventus quindi le wim l'under 23 l'under 19 oggi per domani ne abbiamo anche pensate le informazioni su una formazione in insta under 15 under 17 c'è di tutto e domani ovviamente va in onda su j radio zone venerdì come al solito j tactics su j tactics canale spreaker j tactics andrà in onda j world sempre anche quello dedicato a giovanili tutte le formazioni della juventus tra i giovanili alle women la live solita dovrei farla domani ma lo confermo all'ultimo minuto non avrò ospiti quindi molto probabilmente lo dovrò fare da solo perché non ho avuto tempo di organizzarmi quindi sono stato un po di corsa stasettimana e niente ragazzi poi ovviamente man mano vedrete contenuti nuovi nel canale ma ovviamente ve lo dirò ma come ho detto queste sono le due collaborazioni settimanali quelle ci vanno e la live dovrebbe esserci ma aspetto sempre l'ultimo minuto questa volta aspetto l'ultimo minuto perché è un po da fare se riesco a liberarmi la faccio volentieri e faremo quattro chiacchiere insieme ragazzi io vi saluto vi do appuntamento coi prossimi video e fino alla fine forza juventus ma è stata una bella serata di champions league ciao a tutti al prossimo video